buon salve cari pixelini e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di harry potter o guas mystery ragazzi ci ha beccato silente ci ha beccato io ho paura ragazzi mi sa che qua finisce male che sta succedendo sta succedendo che c'è un disegnatore hogwarts abbiamo incontrato e trovato un messaggio di r e questo è un problema questo è un problema perché ci stiamo esercitando per sconfiggere il disegnatore quando abbiamo promesso a silente di non intrometterci minimamente in questa cosa e però lo stiamo facendo quindi cioè secondo me finisce male qua ne sono quasi sicuro boh però abbiamo visto penny distrutta penny che è stata attaccata è stata colpita dal disegnatore anche lui abbiamo quasi siamo quasi morti per fortuna che c'era tongs che ci ha salvato andate a vedere qualche video fa per rendervi conto del della sofferenza che abbiamo fatto quasi l'anima persa quasi trasformati in disegnatore ma ragazzi ci ha aiutato la mc granita tra l'altro siamo andati dalla mc granita a chiedere delle cose inutili proprio inutili e ovviamente la mc granita probabilmente l'avrà detta silente sicuro quindi tipo i casini proprio ragazzi i casini ma ragazzi eccoci qua io ne sono sicuro perché ogni volta che vengo a parlare con silente lui ci parla ci c'è due frasi soltanto tipo sì sì un attimo devo finire qua energia e poi ci parla perché silente è uno stronzo voleva parlare con me professor silente sta a vedere ah signor balboa non mi aspettavo che venisse così presto fine del video scorso la mc granita vien da noi e ci dice e balboa guarda che il preside ti desidera parlare immediatamente quindi muoviti vai non farlo aspettare tagliandino della missione il il preside ti aspetta subito immediatamente non far tardi e mo il preside mi dice questo cioè veramente credevo avesse detto che voleva vedermi subito esatto sì ma non sei mai stato molto propenso a seguire le istruzioni dei tuoi professori quando il preside mi chiama sono sempre venuto subito perché ragazzi rocky balboa viene sempre cioè che cavolo le basi perché non dai un'occhiata in giro mentre finisco di scrivere questa lettera poi parleremo perché mai in questo ufficio lo conosco a memoria ogni volta ogni singola volta devo guardare in giro che cavolo però per fortuna almeno tre ore non otto ore in solito ragazzi cioè conosco veramente la memoria a questo ufficio quanti di questi libri avrà letto davvero silente probabilmente tutti ne sono sicuro sono tentato di chiedere a silente che forma assume il suo patronus il patronus di silente ragazzi l'abbiamo mai visto si sa non lo so voi si è scritto su potermore ragazzi se lo sapete fatemelo sapere qua sotto in descrizione così come vorrei anche un po' di musichetta ma ogni tanto muore mi chiedo quanto non 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 lo so 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 non ho letto fanny si chiama fanny sembra più giovane dell'ultima volta che l'ho vista ma com'è possibile perché sarà morta e rinata è una felice ma non 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 è possibile perché silente sa che mi sto preparando ad affrontare un designatore secondo me sì comunque ragazzi non può essere più giovane di quando abbiamo visto l'ultima volta per il semplice fatto che quando ci sarà Harry fra pochi anni sarà allora che la fenice schiatta ma ci mette parecchi anni di vita una fenice credo c'è una confezione di sorbetti al limone non so cosa perché ovviamente io mi perdo nei miei pensieri silente sospetta qualcosa questo è ovvio grazie grazie ma quella è una rivista sul lavoro a maglia e vabbè c'ha delle passioni silente posso solo immaginare quanto sia potente il patronus silente beccati sto patronus squack squack era importante da dire mi chiedo quanti presidi si siano seduti in quella cattedra ecco cosa che era cosa stava dicendo sono questo abbiamo già letto ragazzi questo abbiamo già letto è impossibile c'è una confezione di sorbetti al limone che spunta da quel cassetto sorbetti al limone sì ma non sono freddi se sono spuntati da quel cassetto ragazzi ma i maghi li usano i sorgelati ragazzi i maghi li usano i sorgelati perché effettivamente possono creare cibo dal nulla si vede anche gli animali fantastici mentre fuori c'è una specie di animale che fa dei rumori strani non è il gioco sparito ogni volta che parlo compare appena smetto di parlare sparisce mi sta puntando sicuramente ho paura ho tanta tanta paura ma ragazzi abbiamo finalmente mentre è passata anche una moto finito di fare queste cinque stelline speriamo che il silento e il silenio di parlarci adesso raccogliamo l'energia ed eccoci qua ecco fatto ho finito e ora passiamo al perché ti ho chiamato qui per togliermi mille punti ne sono sicuro ti va una cioccorana o preferisci un sorbetto al limone allora se lo dovessi far felice un sorbetto al limone perché lui li adora però attenzione se gli rubiamo un sorbetto al limone magari lui c'era uno meno quindi è triste una cioccorana preside è molto gentile da parte sua signore ma immagino non mi abbia chiamato qui per offrirmi dei dolci no ma nella mia esperienza ho scoperto che rendono più facile mandare giù delle domande difficili nonostante ma come l'ho scoperto nonostante mi avessi promesso che non ti saresti fatto coinvolgere ragazzi per ora non ci siamo fatti coinvolgere cioè abbiamo soltanto studiato per i cavoli nostri quella roba lì oddio in realtà abbiamo anche incontrato il dissenatore ma come fa a saperlo lui perché sei andato contro la mia volontà è indagato sulla minaccia di quel messaggio lo sa è il preside sa tutto so più di quanto tu possa immaginare e meno di quanto io voglia sapere ma so di sapere cose che tu non sai di sapere mentre io so cose così a dire il vero sento di dovermi occupare del dissenatore per la sua connessione con r quando ho scoperto ho scoperto che penny era stata attaccata e che il dissenatore era ancora a piedi libro non ci ho visto più e sono impazzito penny io lo sa che io e penny da cinque anni da quattro secondo questo evento e non ci ho visto più ho capito che dovevo fare il tutto il possibile per tenere lei e i miei amici al sicuro sono un grifondoro dopo tutto cosa volevi silente silly il tuo desiderio di proteggere i tuoi amici è molto nobile ma quando per esso metti in pericolo la tua sicurezza devi riconoscere quando è meglio lasciare che se ne occupi qualcuno di più preparato ad affrontare una cosa simile capisco professore sono pronto ad accettare la mia punizione 100 punti a grifondoro è molto maturo da parte tua ma chi ha parlato di punizioni ha detto che se fossi indato contro il suo ordine sarebbe stato costretto a punirmi se ricordo bene ho detto che sarei stato costretto ad adottare dei provvedimenti appropriati date le circostante circostanze direi che dei provvedimenti appropriati consistano di due cose oh ci aiuta ci aiuta prima di tutto delle scuse sincere silente si scusa con noi ok il mio tentativo di nasconderti delle informazioni era solo per proteggerti ragazzo mio farai questo errore anche fra qualche anno con harry potter cioè più più o meno 12 13 anni ragazzi lo farai a quest'errore no che 12 13 anni fra due anni quando noi ce ne andremo l'anno successivo se non erro arriva harry quindi fra un 3 4 anni al massimo farai quest'errore quindi cioè lo sai già è tuttavia sembra che abbiamo finito solo per caricare un peso ancora più grande sulle tue spalle capisco professore voleva fare quella che pensava fosse la cosa migliore infine un sincero avvertimento a volte ci impuntiamo così tanto sull'affrontare l'oscurità che non ci accorgiamo che ne siamo ormai consumati abbiamo perso di vista ciò che davvero conta seguirò questo suo consiglio con grande attenzione professore grazie e ora se non mi sbaglio c'è un'altra studentessa che potrebbe beneficiare di qualche altro consiglio merdula forse tu sei la persona più adatta per darglielo io non do nulla a merdula proprio nulla l'unica cosa che posso dare a penny a merdula no credo abbia ragione professore andrò subito a parlare con merdula no ragazzi proprio no 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 io con merdula non ci parlo a meno male fra quattro ore voglio essere lasciata sola dubito che cambierò idea ma se lo farò te lo dirò subito mi sa che merdula qua si è presa male ma ragazzi tutto questo andremo a fare nella prossima puntata sarà la penultima cosa per evocare patronus presumo che riusciremo a evocare patronus e ci troveremo contro il dissenatore e lo sconfiggeremo perché ovviamente siamo dei grandi e potenti ragazzi direi che per oggi è tutto mi raccomando di lasciare un mi piace qua sotto al video iscrivervi al canale attivare la campanella e soprattutto di condividere questo video con tutti i vostri amici vi ricordo il 14 giugno è il mio compleanno se volete donarmi qualcosa trovate qua sotto in descrizione tutti i modi per farlo che altro dire vi aspetto sul mio canale e sulle mie storie instagram dove pubblico la programmazione quiz e tant'altro per oggi è tutto che altro dire fatto il misgatto mamà ciao 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 ciao